Musica 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 Mi serve il tuo aiuto? Si eh? Allora non devi fare niente però Musica 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 Ubi Musica Musica E adesso faccio un salto Però non prendo qua Dovresti vedere Fin dove arrivo con la testa Se esco fuori dall'impoderatore Non importa Allora, intanto se io vado qua, tu mi vedi? No, a metà, non importa E l'ultima cosa Mentre io dipingo Con questo? Sì, questo Fa una panoramica Sì, adesso ti vedo Non riesco a prenderti tutto Io so solo Devo muovere sto a fare qua E basta Eh, non ci stai Lo zoom non so come funzioni Non sono capace Lo zoom basta che fai così, guarda Mi metterlo più indietro Posso? Così Cioè, questo non devi schiacciare Devi solo muoverlo Facciamo anche lo zoom indietro Così, vedi? Vai avanti Indietro Ok, dai ci provo Eh, quindi Ah, giusto Adesso dimmi se ci sta Fai una prova? Dimmi com'è Com'è che faccio ad attivarlo? Cosa? Com'è che faccio ad attivare? Sì? Sì, sì Tutto? Prendo tutto l'angolo lì No, cos'è che devo fare? Non devi fare niente Ok, ok Devi fare niente Devi fare niente Devi solo muovere Sta già registrando tutto Ah, ok Ma lo vuoi a zoom Lo vuoi così la maggior parte? Allora Cioè, da quel muro là No, non fin qua Quanto spazio? No, no Questo punto qua Guarda qui Sì? E mi muovo Tipo faccio un dipinto Ma tu ci stai Quanto spazio? Tanto così Cioè, sei in mezzo Prova E appena, non so Vedi qualcosa di interessante Le mie mani Posso avvicinare un po' Fai così Verso destra Fai lo zoom Prova a saltare Prova a saltare Aspetta Ma devi Fino a qua Sì, sì Ti vedo i piedi Sì, sì Fai così Poi quando vedi che ho finito Mi sto spostando Torni indietro Ok Un attimo più indietro Forse è meglio Forse Più indietro? Più indietro lo zoom Se vuoi Più indietro lo zoom 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 Ok Ci provo Ci provo Non ho mai fatto E poi Puoi andare leggermente In su o in giù Questo è duro Tiene Quindi non ci sono Movimenti Brusca Posso muoverlo anche in giù? Puoi muovere in giù Ah, ok Ah, perfetto Bon, bon, bon Ok Vai Da come inizio però? Inizi da Da lontana Da lontana Non è che in Aum Così al corso di cinema Il master Però non vedo che prepari la pittura Così? Così? Ok Ok Hai Ok I think it's a really nice for us But we're not art people So we probably don't Compete No, exactly what they also Wanted People are pronto And short something Cos they never did before And I think it's important To ask something To people are pronto buona multipla il nostro breakdice questo l'ho conosciuto quando stanno a tutti ora è tranquillo grazie 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 buon salire grazie 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 come la cosa è diverso? I hate slugs. Is that? I hate slugs. Maybe, I think here... Who says slugs? For one thing, they're not artistically pleasing. I have no idea, what's that? Well, it's... It has horns. It's elegant. And soft body. And it likes the rain and it comes out... Oh, okay. Brown. Brown. Yeah, of course. I hate those. Oh God, I remember my grandmother. You can do a slap. A slap? Yeah. What do you want here? Yeah. My mother, my grandmother was putting some salt on that and they are... Yes, yes. So cruel. Give me what I have to do here. So, basically it's... A little bit. Yes. Brown. Don. Yes. Okay. In Italian, this part is called manto. Okay. When I think today... It's a little bit. It's a little bit. Yes, yes, yes. Wow. Any manners? No, it's... I don't know how to say the same. I don't have to picture... His name is... I don't know. His name is... Is it his name? Montel. Mantel, yeah. With this... And here... With the wings. Huh. What... What about a crocodile? Oh, yeah. Sorry, I was concentrating. Come on. What's that tail? This. Oh, it's the one. Oh, it's the one. Now... I will turn off because I don't want to finish. But you won't turn off. You will continue to finish. Okay. Okay. That's why they have a lot of rat. A scolopendra. They have some massage. Oh... Oh, okay. That one, yes, I hate them. What? I can't. I'm not sure what this is here. Yeah, me too. I tried to... An eagle? No, a vulture. A vulture? Yeah. A what? A vulture. They're probably just carrying... After the people are dead, when the people are dead. Ah, what's the name? Vulture. Vulture. I didn't know. Should I have a phone? What do you use for cleaning the floor with a spoon? A rug? Sponge. 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 Oh, sorry. Yes, a sponge. A towel. Yeah, a spoon. Yeah, a spoon. I'm not going to see it like that. I'm not going to see it like that. You can't pass too many fields before jumping. Yes, please. You can't pass too many fields? I've learned to pass too many fields. I've learned how to pass too many fields. Really? I know. The plan is brown as well. Yes, yes. Sì, stai chiamando. oh